Un saluto a tutti da La redazione di Rossini TV è benvenuta a questo nuovo appuntamento con il Le Valle Foglia e Piano del Bruscolo Magazine. Prima di iniziare con il nostro telegiornale, come di consueto vi ricordo i contatti alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Valle Foglia, chiocciolarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi audio o semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia e parliamo di vaccini, visto che da mercoledì 22 dicembre per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni sarà possibile sottoporsi alla prima dose di vaccino presso la Casa della Salute di Valle Foglia. Una decisione importante arrivata dalla regione, come lo stesso Sindaco Cucchielli ha spiegato. Per 5 giorni la Casa della Salute di Valle Foglia aprirà le proprie porte per permettere ai bambini, nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, di sottoporsi alla vaccinazione. Per potersi recare alla struttura in via Piola Torre a Montecchio, è però necessario prenotarsi prima sul portale della Regione Marche, che è già visibile dal 15 dicembre. Mercoledì 22 e 29 dicembre e mercoledì 12, 19 e 26 gennaio. Sono queste le 5 date in programma con orario dalle 15 alle 18 previste dall'Asur e il Sindaco di Valle Foglia, Palmirucchielli, ne ha sottolineato l'importanza. Vaccinare i bambini nella Casa della Salute è il luogo delle famiglie, diciamo da 5 a 11 anni, mi pare dai prossimi giorni, dal 22 mi pare di dicembre, è quanto mai importante perché prima riusciamo a fare tutti i vaccini, prima ci liberiamo e ritorniamo in una situazione di normalità, perché diversamente è chiaro che siamo costretti a viaggiare con la mascherina, ad avere ricoveri ospedalieri e poi anche se è molto delicata la questione dei bambini, però bisogna ascoltare i pediatri, i medici di medicina generale, la scienza, perché se noi riusciamo a liberarci quanto prima, a ritornare a lavorare in una città industriale come questa, diciamo come se non ci fosse più il vaccino perché abbiamo sconfitto il Covid, sarebbe importante. Vaccinare i bambini e vaccinare tutti quelli che ancora magari per un po' di preoccupazione, per paura, non avevano fatto i vaccini, è fondamentale per riuscire bene da questa vicenda del Covid, che ha provato anche sul piano psicologico le persone, due anni dentro casa e lavorare con difficoltà, trattare i bambini sempre con preoccupazione, con la paura che si ammalassero, diciamo che va un grande grazie a tutti quelli che sono adoperati per rivivacizzare una casa salute, che deve appunto tenere la comunità e i cittadini in salute. E per quanto riguarda invece tutte le altre fasce di età che si possono sottoporre alla vaccinazione, ovvero intendiamo dai 12 anni in su, mercoledì 15 dicembre ha fatto tappa il camper vaccinale a Vallefoglia. Dalle 9 alle 13, presso il piazzale adiacente alla Casa della Salute, è stato possibile, per chi si è recato, ottenere senza prenotazione la dose necessaria per continuare il ciclo vaccinale. L'invito del Sindaco, che si rinnova anche per i prossimi giorni, è quello di andare a vaccinarsi per poter trascorrere le festività natalizie, senza dover essere costretti ad osservare ulteriori restrizioni. E sempre per quanto riguarda il territorio di Vallefoglia, visto che nei giorni scorsi è stata emessa un'ordinanza relativa all'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, per il periodo, iniziato il 12 dicembre e che si concluderà il 9 gennaio, come avvenuto anche in altre città e in linea con l'aumento dei casi di positività alle Covid-19, la decisione presa dalle comune di Vallefoglia è arrivata a seguito dell'incremento di persone che frequenteranno le attività commerciali e pubblici esercizi presenti nel periodo delle festività natalizie. E dopo aver parlato ampliamente dell'emergenza riguardante il Covid-19, cambiamo argomento perché sarà ricco di particolarità e storie. Il libro che verrà presentato sabato all'hotel Blu Arena di Montecchio riguardante la città di Vallefoglia, un volume che racconta tante particolarità del territorio comunale, come possiamo ascoltare in queste interviste. Un libro che viene presentato ufficialmente sabato 18 alle ore 17 al Blu Arena, un libro che racconta tante storie di Colbordolo, Sant'Angelo e Lizzola, fino all'ultimo per ordine di tempo Vallefoglia, un comune nato sette anni fa. Abbiamo voluto con tutte le nostre forze per trovare le risorse per raccontare la storia di questa città, le radici storiche che vanno da Terenzo Mamiani, ministro del governo Cavour, deputato, senatore, a Costanza Monti, a Giulio Perticari, a Giovanni Branca, a Giovanni Santi, padre di Raffaello, che è nata col Bordolo, al conte Pacciotti di Montefatti, grande architetto militare, a Gerola Mogenga, personaggi importanti di caratura nazionale, e poi la fotografia, anche parafrasando con le bellissime foto, padre da Filippo Viaggianti, proiettare Vallefoglia è una città futura, cioè il futuro di Vallefoglia, di una città industriale, città giovane, una città dove in controtendenza nazionale nascono tanti bambini, quasi quanti nei periodi in cui non c'era il Covid, una città dove i matrimoni sono tantissimi, quindi una città futura. Abbiamo stampato 1500 coppie, verranno distribuiti a quelli che verranno alla presentazione, poi le biblioteche, diciamo, quelli che avranno voglia di avere una coppia, penso ai matrimoni, penso a tutti quelli che stanno a Vallefoglia e che verranno o dal sindaco o dall'amministrazione per avere una coppia, per capire dove ci sono capitati. Quanto è stato complicato e allo stesso tempo entusiasmante scrivere su questo territorio, soprattutto in un periodo in cui la società di oggi dà priorità alle immagini e non alla scrittura. Complicato, entusiasmante e effettivamente abbiamo dato molto spazio alle immagini, sia perché la civiltà di oggi si legge sulle immagini, sia perché abbiamo voluto corredare questo libro che parla di personaggi del passato, sono circa 500 anni di storia che noi attraversiamo da Giovanni Branca a Terenzo Mamiani, con delle immagini contemporanee, cioè abbiamo affiancato alle immagini della riproduzione delle tempere del Mingucci, del Seicento, degli acquarelli del Liverani, dell'Ottocento, metà ottocento, delle immagini scattate appositamente nel 2021 da Filippo Biagianti e al quale ho chiesto di documentare proprio Vallefoglia da un punto di vista, diciamo, così complessivo, globale, cioè di cercare anche molto, oltre a focalizzare i punti salienti di ogni paese, le piazze, i castelli, i monumenti, anche proprio la valle, proprio quello che poi il paesaggio, il panorama nel suo complesso, perché questo libro parla effettivamente di Vallefoglia, parte certo da Sant'Angelo Lizzolo e Colbordolo, che sono i due comuni che hanno dato origine a Vallefoglia, ma punta a parlare proprio di Vallefoglia, cioè della città di Vallefoglia. Un territorio pieno di borghi, di paesi, e di castelli presenti, castelli che non ci sono più, e quindi un territorio da visitare, può essere un luogo turistico, per un turista che insomma che viaggia la nostra provincia, tra Pesor Urbino sicuramente Vallefoglia merita una tappa. Questa pubblicazione insomma serve per far conoscere Vallefoglia al di fuori, ma anche per i nostri concittadini, che è un territorio che ha subito anche delle migrazioni, e quindi sicuramente ci sono luoghi meravigliosi che anche i nostri concittadini non conoscono, quindi sfogliando la pubblicazione avranno conoscenza anche dei luoghi a cui approfondire la conoscenza. E con l'avvicinarsi alle festività natalizie è iniziata la quinta edizione, dopo lo stop forzato a causa di un anno, di Betlemme a Talacchio, il presepe a grandezza naturale che da sei anni a sta parte abbellisce il piccolo paese per il periodo natalizio. Carla Nicolini, una degli organizzatori di questo tradizionale evento, ci ha fornito maggiori dettagli in merito. Tra mille difficoltà, sinceramente, siamo riusciti a realizzare anche questa quinta edizione in forma leggermente più ristretta, malgrado abbiamo mantenuto comunque tutte le postazioni, tutti i mestieri che vengono rappresentati solitamente in un presepe. E quest'anno potete trovarlo al centro del paese, tutto dislocato a destra e sinistra, rallentando, perché il nostro presepe fortunatamente non ha bisogno del Green Pass e le famiglie possono venire tranquillamente in ampi spazi. Diciamo che questa opera, la ricordiamo, è stata realizzata dal paese tutta manualmente. Le statue sono a grandezza naturale e sono costruite tutte in stoffa, i visi compresi, occhi, bocca, ed è una particolarità di questo presepe. e va ricordato che questo presepe è stato visitato da un sindaco della regione Campania, nel comune di Salerno, il comune di Varonissi, nella provincia di Salerno, scusate, e ha colpito per la sua maestosità e ha fatto modo di far crescere un gemellaggio. Quest'anno hanno realizzato, per il primo anno, il presepe dei ciliegi e del loro si chiama, alla stessa misura del nostro e ha riscosso un grande successo. La cosa che ci rende veramente orgogliosi è che il nostro presepe di una piccola comunità sia adesso dislocato a livello nazionale. Speriamo che da questa idea ne nascano altre. Quanti personaggi ci sono? C'è un numero preciso? Personaggi come persone sono sui 150, più o meno quest'anno, ridotto di una metà quasi. Poi ci sono tutti gli animaletti che piacciono tanto ai bambini, tra piccoli e grandi, perché abbiamo i cavalli a dimensione naturale, abbiamo il buo a dimensione naturale, le galline, che le nostre galline sono particolari, sono costruite con le piume e sembrano quasi molto più realistiche queste di quelle vere, gli manca un po' il movimento, ci lavoreremo per i prossimi anni. È stato deciso di realizzare una lotteria abbinata al presepe, ma servirà l'incasso a sostenere le tre comunità, perché la parrocchia è formata da Talacchio col bordo alle Montefabri. Abbiamo molte attività comunque parrocchiali con i bambini, il catechismo, oratori estivi, che se non troviamo una fonte di sostentamento dovremmo nel tempo abbandonare, non ce lo meritiamo comunque, perché siamo un paese di lavoratori. La lotteria, potete trovare i biglietti in vendita presso le chiese parrocchiali di Talacchio col bordo alle Montefabri, oppure dalle persone che fanno da referenti, ma non è difficile rintracciarci. Verrà fatta l'estrazione il 5 di gennaio presso l'Unione Pian del Bruscolo e ci sarà un pubblico ufficiale, quindi una cosa tutta regolare. Verranno riportati i vincitori sui giornali principali, il resto è il Carlino Corriere Adriatico. I premi sono 41, il primo premio ha il valore di 2.400 euro ed è una bicicletta elettrica, quindi utile sia a un adulto che a un bambino. E a Montecchio, sempre in avvicinamento alle periodo festivo, tornerà dopo lo stop del 2020 il jump invernale. Anche quest'anno si svolgerà al centro di aggregazione Meglio Perlini e potranno parteciparvi tutti i bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni, dove potranno svolgere compiti per le vacanze, attività ludiche e numerosi laboratori. Un luogo di unione e tanto divertimento per i più piccoli, che riguarda il periodo, che va dalle 27 dicembre alle 5 gennaio e che sarà aperto tutti i giorni esclusi i festivi dalle ore 8 alle ore 13. E in settimana è stato presentato il nuovo calendario della Megabox Vallefoglia per la stagione 2022. Nell'occasione, dove si sono scambiati auguri di Natale fra tifosi e sponsor, si è fatto anche un po' il punto della situazione di questa prima parte di stagione in Serie A1. Siamo qui con Coach Buonafede, un anno importante per la Megabox Vallefoglia. Oggi viene presentato il calendario 2022, un anno fortunato, un anno ricco di successi. Ci può raccontare questo anno dal suo punto di vista? È stato inversamente proporzionale alla realtà del mondo. Abbiamo fatto questa escalation nel 2021 veramente fantastico. Un sogno la promozione in A1, un risultato assolutamente inaspettato. È chiaro che ci sono dei periodi belli, altri meno. Abbiamo un po' pagato quest'ultimo periodo di Serie A1, prima con una squadra incompleta, poi perdendo il palleggiatore. però nonostante questo la classifica in questo momento ci dice che saremmo salvi se il campionato finisse adesso e quindi dobbiamo gioire perché nonostante tutte queste sfortune è vero che abbiamo lasciato qualche punto per strada ma potevamo anche fare peggio. Sicuramente ripetere il 2021 nella prima fase sarà impossibile però io penso che a fine stagione 2021-2022 saremo ben contenti di quello che stiamo facendo. Ora secondo me non siamo nel giusto posto per gli sforzi che abbiamo fatto. Dobbiamo rivedere un po' l'assetto organico della squadra per far sì che nella seconda parte raggiungiamo la salvezza con ampio margine. A parte queste piccole problematiche comunque è sempre una grande soddisfazione partecipare al massimo al campionato di volley non è che tutti se lo possono permettere. Noi grazie al cielo ci siamo riusciti con sforzi e quindi siamo contenti. siamo contenti. Si chiude il 2021 viene presentato oggi il calendario per il 2022 si chiude quindi un anno importante per la Megabox e per il suo debutto in Serie A. È stato un inizio con tanti cambiamenti e siamo partite senza un vero opposto poi è arrivato e ha dato un contributo poi purtroppo la prima palleggiatrice ha avuto un problema e quindi adesso tocca a me a prendere il suo ruolo e quindi insomma è un continuo processo di conoscenza tra di noi per amalgamarci meglio e abbiamo ancora due partite nel 2021 e con queste due partite finisce il girone di andata e quindi cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo noi sia di carattere e di voglia di far bene e per prenderci qualche punticino per poi fare iniziare un girone di ritorno più agguerite più consapevoli delle nostre qualità e per riuscire magari appunto a vincere quelle partite importanti che all'andata non siamo riusciti a fare e concludiamo come di consueto il nostro Vallefoglia per il bruscolo magazine parlando di sport e riprendiamo appunto parlando della Megabox Vallefoglia la squadra delle presidenti Ivano Angeli non è infatti riuscita nell'impresa visto che nelle mezzo è disputato le pala Carnaroli di Urbino è uscita sconfitta per 3-7-0 per mano di Scandicci uno scontro tosto che si è rivelato impossibile per le ragazze di coach Bonafede che le ha viste affrontare nella serata di sabato le attuali terze in classifica una sfida difficile come quella in programma per sabato prossimo che vedrà la Megabox in cerca di punti di salvezza fronteggiare un ottimo Monza passiamo ora alle calce locale partendo dalle campionato di eccellenza dopo qualche partita secco sono arrivati tre punti per l'Atletico Gallo col Bordolo che nella partita casalinga disputata sabato ha battuto per 3-1 il fanalino di coda delle San Marco Servigliano in promozione invece è arrivato un importante pareggio per il case Porte Montecchio che ha strappato un punto dal campo della Fermignanese per 2-2 per quanto riguarda il Valfogli invece non si è disputato il match nel programma che li vedevi impegnati sulle campo delle Sasso Ferrato Genga con partita rimandata a causa del maltempo e terreno di gioco impraticabile nelle campionato di prima categoria invece weekend amaro per le due squadre locali sconfitta per l'Atletico Tavuglia che a Piobbico è uscita sconfitta per 1-0 enesimi 0 punti ottenuti invece dall'Osteria Nuova che nelle mezze di sabato è stato battuto a domicilio dalle Tarvernelle per 2-1 e con lo sport si conclude questa nostra nuova edizione delle Vallefoglie di Pendelbruscolo Magazine io vi ringrazio per essere stati con noi questa sarà l'ultima puntata per quanto riguarda il 2021 ne approfitto per fare gli auguri di un sereno Natale a tutti di buone feste di buon anno ci rivedremo nelle 2022 e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti